Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della LissiCraft, la mia botcaverna è pronta Devo soltanto aumentare di sopra di un blocco, perchè tre blocchi sono pochi, vedete, tipo arrivo qua, bam, ho da sbattere e non mi piace come cosa Quindi devo aumentare questa cosa Allora, sono un po' indeciso su cosa costruire qui dentro Avevo pensato alle farm di cibo, qualsiasi tipo di farm Ho visto che c'è un Edelman qui sopra, che potrebbe aiutarci perchè mi sembra un Ender Pearl Oppure a qualcos'altro qua vicino, però sono un po' indeciso come ho detto Quindi, non lo so, sinceramente, potremmo fare di tutto qui dentro, non è che abbiamo limitazioni di nessun tipo Quindi, cosa potremmo fare qui dentro? Bella domanda Ok, ho deciso, lì dentro ci facciamo, sapete che cosa? La nostra base operativa Quindi le tocca craftare roba, ok? Questi qui li lasciamo qui perchè ovviamente rimangono come oggetti qui senza problemi Dovremmo andare a fare un paio di cosette Quindi iniziamo la nostra nuova zona di, di, insomma, di macchinari fighe e belli E iniziamo ufficialmente la Thermal Perchè, come sapete, sì, l'alloy smelter e tutte queste robe sono fighe Ma a me la Thermal piace un fracco perchè è più veloce, eh Ha molti più potenziamenti ed è anche più figo e più veloce Quindi, Thermal ci sta Allora, cosa dovremmo fare inizialmente? Io opterei per il craftaggio di un paio di macchinari Allora, iniziamo facendo le cose basilari Prima di tutto, dobbiamo giustare l'estetica della, della zona lì che abbiamo Quindi dobbiamo farci una cosa molto importante Adesso non mi ricordo, si chiama Exchanger, ok? Ed è tipo la bacchetta della Towncraft Però, della tech, dell'Undertech Facciamo il redstone, oh merda Pensavo fosse più facile, in realtà no, devo farmi un Tesseract E vabbè, il Tesseract è un po' complicato, ok, quindi Niente Exchanger per il momento, lasciamo perdere, ok, va bene Prima di fare l'Exchanger dobbiamo fare i macchinari della Thermal Mi sembra ovvia come cosa Quindi, iniziamo facendoci un Pulverizer, ok Pulverizer molto easy da craftare Si crafta in questo modo Quello al centro indica se il macchinario è al primo stadio O a uno stadio evolutivo successivo Perché? Perché pian piano che potremmo, che andremo avanti Potremmo far evolvere il nostro Pulverizer Rendendolo resonant Resonant con certi upgrade E straveloce, è tipo È tipo il doppio, il triplo più veloce della Del Pulverizer No, del Soak Mill, quello di sopra Dell Enderio Quindi, yeah, funziona Allora, per tutto quanto, ovviamente Avremo bisogno di un Pulverizer E di un Vabbè, Pulverizer Poi la Fornace Quindi la Redstone Fornace Normalmente, quella qua E anche queste crafta in questo modo Avremo bisogno quindi di un bel po' di Copper Gear Del Resonance Option Coil Che si fanno col Gold Come sapete, è tutto normale E quello centrale, invece, si fa in questo modo Si fa con vetro, ferro e Tin Gear E il Tin Gear, ovviamente, si fa in un solito modo Tin, più un pezzo di Iron al centro Oppure utilizzate altri metodi per fare il Tin Gear Basta andare sulla Nei e la controllate tranquillamente Quindi facciamoci almeno i materiali per fare questi due oggetti Ok, ho tutti i materiali Quindi andiamo al craftaggio di tutti gli oggetti che ci servono Ho fatto un po' di Tin Gear in più Perché a fine in futuro ci serviranno per altri macchinari Infatti, ci serviranno anche oggi stesso Quindi ne fate alcuni in più per sfizio Ok, facciamoci questo, questo e questo E sono bello che si avevano due Ah, merda, è vero Non avevo la super cosa Insomma, che tenesse tutti gli oggetti dentro Invece no, non è così Pensavo fosse così Mi servono un paio di Flint Ah, eccole qua, perfetto Due Flint Ottimo E facciamo il Pulverizer Perché facciamo direttamente a mano scrivendo Pulverizer Vieni a me Forse Ok, in questo modo Va, Pulverizer fatto E poi la Fornace Ho un problema Ho la clay cotta Ma non ho la clay normale Quindi ho problemi a farmi I I Cosi lì I Non mi viene adesso il termine Comunque mi serve la clay non cotta Quindi Devo andare a prendere la clay non cotta Maldizione Ok, anche per la Fornace Abbiamo tutto quanto Non spolverizer Scusate Fornace Fornace E abbiamo fatto Queste due robe Ok Ehi Cosa mi manca Mi manca Li ho fatti i brick Ma sei proprio scemo Sei Ho fatto pure i copperghia Vabbè Si vede che ho sbagliato qualcosa Non so Ho sbagliato qualcosa Non credo Dovrei avere tutto necessario Ah, giusto Mi manca una cosa importante Mi sono completamente Identicato di sta cosa Ovviamente Dice Guarda Manca una cosa È ovvio Questa ragazzi Bam Ok, è andata Perfetto Pulverizer E Posizionate lì dentro Anche se Io opterei per una cosa Ragazzi miei Allora Voglio subito subito Andare avanti Quindi non so se In realtà Potremmo anche andare Per l'uso attualmente Di energia Dei nostri conduit Ok, questi qui Le hunched Energy Energy Ok Mi servirebbe un'altra cella Quindi sto un po' varando L'opzione di farmi una cella del genere E mi sembra che mi conviene Facciamo la cella Facciamo Ho un problema con i mob Nel senso che Stanno diventando un po' troppi Stanno diventando Ho fatto un po' di torce Voglio piazzarle un po' ovunque Per non morire Sinceramente Quindi Ehi Torcio un po' ovunque Cerchiamo di Riempire la stanza di torce Se no Ehi mob Arrivano a caso E dobbiamo fare una cosa Molto importante Allora Non ce ne vero mai Con dieci fili Ma manco per il cavolo Proprio Perché qui Potremmo fare Ehi Guarda Di qua Oddio Ho rotto tutto Ho rotto Facciamo magari di qua Così Anche perché si deve vedere per forza Si deve Che C'aveva la nano suite addosso Ragazzi avete visto Va bene Comunque facciamo così Facciamo dicevo Facciamo così E Filo E filo Ehi No che palle Ogni volta al contrario Si può fare a questa parte No Ok L'energia arriva Va bene Problema Adesso io devo portare Questi cavi Qua c'è questo filo Devo portarlo fino lì Tipo I macchinari li voglio mettere Che non so Qua vicino In questo lato Perché infine Ci sta 1 2 In questo modo Devo fare al contrario Vero Si devo fare al contrario In realtà Non è considerato romperli In questo modo Ma io ho visto che ho voglia Li rompo Quindi va bene Ok Qui ovviamente Devo metterci i fili Quindi 1 e 2 1 E vabbè Qua devo rompere comunque Questa roba 1 e 2 Ottimo Però adesso Mi conviene anche Arrivare dall'altra parte Quindi Misaki Devo fare così Eh Sarà un po' complicato Più chiaro Sapete che ho scoperto una cosa In realtà Io voglio fare un muro qui Che fa entrare Va bene Però La track Può passare o no E questo è il dubbio più grande Ogni volta che faccio queste cose Ho sempre problemi con le track Perché Le track sono un po' Una trollata Perché se ti manca una Non puoi passare Quindi È un po' una merdata Sinceramente Però poi vediamo come risolvere Ragazzi Tranquilli Non preoccupate Per il momento Andiamo così Cerchiamo di fare il nostro meglio Per poter portare più cavi possibili Non ci arriverà mai Ok Devo farne di altri Di cavetti Quindi va bene Nessun problema Per il momento Va bene così Vediamo di chiudere Sta roba qua Ok E questo lo mettiamo Qua Così da caso Perfetto Perché solamente Si vede un po' l'energia qui Ma Vabbè Poco importa La fin fine Più che altro Mi preoccupa Il fatto che non sta arrivando Tanta energia E questo è un grande problema Perché significa Che l'energia che produco È poca rispetto a quella Che riesco a trasferire E ovviamente È giusto così Perché ho soltanto Un generatore di lava Grande Quindi Devo risolvere questo problema Perfetto Dovrei quasi aver collegato tutto Manca giusto L'ultimi pezzi Quindi Bam 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 E Da qua sotto No giusto Eh vabbè Si potrevo farlo anche di qua Ok Bam Tutto collegato I macchinari dovrebbero prendere energia Infatti la prendono Perfetto Ok Abbiamo creato Un inizio Di cose belle Vediamo un attimo Dovrei avere un po' di cobblestone Almeno per chiudere quel buco Che in realtà Fa abbastanza schifo Così da vedere Infatti c'è la cobblestone Perfetto E Va bene Allora Il resto sembra essere Buono Decente Va bene Devo posizionarci altri macchinari Altre cosette Ma tranquilli Quello lo faremo In futuro Per il resto Mi Accontento Del fatto che abbiamo Un'energia E possiamo metterci A cuocci di roba Perfetto Se mettiamo Quello in pulverizer La La cobblestone Dovremmo farmi la send Ora E' lento Lo so Ma vedete qui L'augmentation Augmentation Presto Vedremo di aumentare Quest'augmentation E di farci di speed Ok Ah ovviamente Devo anche impostare qui L'entrata A sinistra Ok Così almeno posso Quacci di aumentare la roba E poi l'uscita da destra Quindi Non so Ma normali Cose Perfetto Ok Ragazzi Allora Ci rimane giusto L'ultima cosa Da fare in questo episodio Che è vedere Come si crafta Il Il teseract Ok Un inizio Anche perché in realtà Non lo faremo Non so se voglio farlo già adesso In realtà potremmo farlo anche a mano Questa roba Quindi potremmo pensare A dei blocchi Per sostituire Questo Posto E visto che a me piacciono un sacco I blocchi Questi qui Ciselle Faccio vedere Ciselle Sono dei blocchi che io uso Molto spesso Mi piacciono un fracco Poi non so a voi se piacciono Però se non piacciono a voi Eh Poco importa Mi piacciono Quindi va bene Sono questi qui I factory block Ok E pensavo di utilizzare Qualcuno di questo Ora Questi qui Si potrebbe anche usare Però in realtà Questi qui sono più per Non so Non ce li vedo tanto bene qui Potremmo utilizzare Questi altri qui Ho usato già questi qua Se non sbaglio Metallic E comunque Il crafting è facilissimo Ferro e stone Quindi Ci mettete di davvero poco A craftarli Mi sa che Andrò per Questi qui I shiny metal construction block Sì Che stavano reso i più carini Quindi Proviamo a giustare un po' Tutta a casa In questo modo Forse con qualcuno di voi Non si ricorda come si usa la chisel Ma ve lo faccio rivedere Basta fare il tasto destro Con la chisel Che avete craftato Prendere un blocco qualsiasi Che avete messo E bam Scegliere il blocco di destinazione E tadan avete a disposizione I vostri bellissimi blocchi I vostri factory Allora Ovviamente Il pavimento Lo faremo tutto uguale Mi sa che ci conviene fare tutto uguale Peccato che non posso fare Cioè in realtà potrei farlo Però mi sembra abbastanza stupido Farlo adesso Sinceramente Perché Guardate questi Allora questi blocchi Sono fantastici esteticamente Sono tipo Sono una bellezza Dell'occhio proprio Bah bellissima Anche perché poi si uniscono eh Non è che dite Vabbè hai fatto un blocco normale No no Faccio vedere Sono belli perché si uniscono Tra loro Quindi hanno una texture Particolare Ok guardate qua E prendono forma di tutti Insomma Di dove si ferma Quindi È esteticamente tanto bello Come blocco Il problema è Chiedevo comunque Aggiustarlo meglio Quindi Va sicuramente Migliorato E aggiustato Dovete fare anche così Ovviamente qui cadrà la gravel Perché c'era un Immondo numero di gravel Qui Ovviamente quando faccio il caverne Io trovo sempre la gravel Non so perché ma La gravel mi perseguita E beh comunque Devo mettere questa roba Qui a posto Ci vorrà un pochetto Ma tranquillo Facciamo tutti in off camera Così non vi tolgo Minuti di video prezioso Molti mi hanno chiesto lì Perché non fai video di 15 minuti Perché se non è una cosa Che devo fare in 15 minuti Lo posso fare prima Perché dovrei portare il video più lungo Cioè È sensata come cosa Mi sto portando i video Decenti da 12 minuti Che a fine Credo sia la stessa cosa Non cambia molto Non cambia E quindi Boh Perché vi lamentate Questo è il punto più cruciale Della mia questione Comunque Come vedete Sto aumentando questi blocchi Abbastanza bene Estaticamente potrebbe essere carino Lo vedremo quando finirò tutto Ho fatto tipo Con uno stack Di ferro 1 2 3 4 5 6 7 8 Stack Di factory block Perché Perché Ogni Pezzino di questo Mi dà la bellezza Di 32 blocchi Quindi un fracco Di blocchi Ragazzi Io direi che ci vediamo domani Con O presto Con il prossimo video Della holiska Come vedete sto pubblicando Più video Della holiska Spero che possano piacervi Fate sapere qui sotto Nei commenti Cosa è pesata Di queste cose Che abbiamo fatto oggi Sì so che abbiamo fatto Tanto due materiali Cioè due macchinari Però è un inizio Di thermal Presto andremo a vedere Anche i vari I vari dynamo Della thermal Perché ce n'è uno Che mi piace un sacco Che voglio sfruttare Al massimo Quindi Tanta tanta roba Per adesso vi saluto ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Da Ulisse è tutto Ciao ciao E al prossimo video